Abbiamo trovato il geyser di merda, se così lo possiamo definire, siamo a 150 metri dalla chiesa del soccorso. Non so se si riesce a vedere la diversa tinta dell'acqua, marrone, dove si vince chiaramente dal movimento dell'acqua che c'è una condotta rotta. La puzza e nauseabonda, non lo dico neanche. È qualcosa di tragico. Immaginiamo questa monnezza che sta finendo a mare e arriva sulle spiagge. Guardate il movimento dell'acqua, come si vede che di sotto c'è una perdita. Ci troviamo a 150 metri dalla chiesa del soccorso, nessuno interviene.